Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Marta è morta Esatto Marta è morta, Marta is dead su questa nuova fottuta notte or Io sono Amor Rouge, qui con me Matreus Detto anche Marta è morta Esatto Marta è morta Allora andiamo avanti mi raccomando amici supportate questa bellissima serie di questo bellissimo gioco Con un bel mi piace, commenti o una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti Attivate la campanella, pagina di Facebook, gruppo, Telegram, tutti i link in descrizione Compresa la playlist di questa fantastica serie di andare subitissimo In game Esatto Oh eccoci qua siamo tornati in game Matreus Là dove l'avevamo lasciato Allora andiamo a vedere un po' di robe Innanzitutto Andiamo sulla bappa Gli obiettivi che abbiamo Ah e dico subito una cosa Mi raccomando Mi sto ammazzando Stavo cadendo giù dalla Mi raccomando amici Vi ricordo che questo È l'unico canale dove ben Due Persone Giocano al videogioco Vi danno le loro impressioni Vi spiegano le cose L'unico E ci spaventiamo E ci spaventiamo Allora andiamo avanti La bicicletta La mia bicicletta L'ideale per visitare il luogo di vicinanza Probabilmente è tipo il viaggio rapido Immagino Trova una pompa Ok Che probabilmente è qua sotto Forse Forse Probabilmente Poi Cose da fare Abbiamo letto il giornale E qua Siamo a posto no? Direi di sì La cornice Macchina fotografica Prova la macchina fotografica L'abbiamo provata E sotto Poi c'è Scatta una foto in giardino E adesso la storia della sviluppo Ok? Sviluppo e stampa Quello di mio padre Ha lasciato sul tavolo Potrebbe andare bene Ok Questo e il resto lo sappiamo Album Mappa No 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 Dove? Dove? Ma Vai su Obiettivi Obiettivi Sì Vai sul Il giornale Il giornale Però l'abbiamo fatto Sì l'abbiamo fatto però anche Non l'ha completato Non si capisce come l'ha completato le cose Ma va bene Comunque siamo qua Sviluppare sarà ovviamente nella camera rossa qui Però prima noi Andiamo a verificare Minimo Bisogna verificarle cose Lorenzini Merceria 5 metri stoffa cotone grigio 6 metri stoffa lino bianco 4 metri raso verde Consegnato il 5 di giugno 1944 Per qualsiasi problema Ci contatti a questo numero 6987 Bel numero di telefono Questo tessuto rosso Sarà sempre della mamma O lo ha lasciato qui la tata? Allora sono tutti tessuti pregiati questi Tu immagina all'epoca Tra l'altro ne diceva tre Grigio, bianco e verde Ma qua abbiamo un grigio, bianco e rosso Sì ma magari sono queste qua Non lo so Comunque la tata È una sarta o qualcosa del genere Potrebbero servirmi Dici? Ma anche no Speriamo di no Ma anche no La macchina da cucire della mamma Ha imparato a cucire perché nessun sarto la soddisfaceva Ah ok Ma scusa è la stanza Cioè è la casa della tata? Le decine di mamma No secondo me Secondo me questa È la casa nostra Nostra nel senso La nostra famiglia di velleggiatura Dove la tata risiede Non è casa sua Credo Però la chiama Proprio Caso della tata Perché lei da piccola Veniva qua probabilmente Dici può essere Eh non so Immagino Può essere Il nostro vino Di cui il babbo è tanto orgoglioso È successo qualche casino Però il tuo vino Bravo Per me quello non è vino È per terra te lo dico Cos'è sto robo? Cos'è che è sto coso? Vabbè Andiamo a fare un giro qua Butt Piccolo Questi tavoli da lavoro Mi affascinano Ah Mi piacerebbe imparare A lavorare in legno Ah lavorare in legno Qui il marito della tata Costruiva le mie bambole E infatti ci sono ancora Le bambole Quindi stiamo parlando di Però c'è Sigarette anche nuove Sembrano no? Le marionette con cui giocavo Venivano fatte qui Non l'ho mai saputo Mi dicevano che le portavo Una fatina Non ci credevo Ma era bello Ah Comunque Queste bambole qua All'inizio del gioco Se ne vede una Mi sembra Sì Se ti ricordi Poi mi hanno detto Che c'è una scena Una cosa che si vede Che c'era anche Di Town of Light Ah Non lo so Eh no Più che altro Era difficile da ricordarsi Visto che abbiamo giocato A dei Town of Light Secolo scorso Quindi dobbiamo comunque Trovare la pompa Che qua non sembra A meno che è sto coso Sembra un trenino Sai le macchinine Ma potrebbe Quella cos'è? Una carriola Una carriola Con Un robo sotto Tipo Un Un No no Una tramoggia Forse serve per il vino Quello Che schiaccia l'uva Forse Questo Non lo so Questo non ho idea Di che cosa sia Non è una carriola Vedi anche qua Sì non è una carriola Metti sopra E lo giri Sì una carriola Vabbè Vabbè Bravo Amon Tu si che Oh Ok Mamma mia Il babbo ha attrezzato Qui la camera oscura Non scatta più Per lavoro Ma la fotografia È sempre la sua Vera passione Io e Marta Possiamo usarla Quando vogliamo Marta è morta Oh ma non è che Adesso questa Pensa di esser sia Una che l'altra Assieme Viene fuori un casino Perché questa è Un'altra delle teorie Che mi è venuta In mente Andiamo a vedere Va Lupex Tante Uh Tante lettere Non ha parlato Non ha parlato Non possiamo neanche Vederle Cosa è Quel Lupex Penso che sia Carta Hexa Hexa Hard Glossi Sì è carta Carta per le foto Carta sviluppo Le vasche più stampare Sono tre Sviluppo Primo risciacquo E fissaggio Il secondo lavaggio Direttamente nel lavandino Sì la metti lì In una parte ci sta un po' Nell'altra va solo Poi nell'altra Fissaggio Poi lavi tutto Ah questo è per vedere La pellicola Sì Per stampare una fotografia Devi usare L'ingranditore Ovvero Lo strumento ottico Che ti permetterà Di pressionare La carta fotografica Dopo lo scatto Il rullino Deve essere sviluppato Attraverso una serie Di passaggi Che Per semplificazione Abbiamo messo Va bene Giustamente Si tratta di arrotolare Anzi Sennò sarebbe Il simulatore Di fotografo Si tratta di arrotolare Il rullino Su una spirale E chiuderlo In un piccolo tank Per poi Sottopollando Un bagno di sviluppo E un risciacquo Un bagno di fissaggio Un ultimo risciacquo Ed infine La procedura Con la sciacquatura E il taglio A pellicola Troverai I tuoi rullini Già sviluppati E pronti Per essere stampati Seleziona Lo scatto Che vuoi trasferire Sulla carta Su carta L'anteprima Sulla sinistra Ti aiuterà A scegliere Naturalmente Vedrai le tue Immagini In negativo Bello Quindi possiamo Tra virgolette Possiamo anche Selezionare Cioè fare le foto Dove vogliamo Per ora c'è solo questo Certo Quindi qua Imprime Poi prendiamo Sto foglio E lo passiamo Nelle varie vasche Però forse Però carino Che ti dice lui Guarda Non è solo così Fare una foto No no È giusto Devi fare queste cose qua Noi te le abbiamo messe Però te lo diciamo Comunque Con l'ingranditore Potrai personalizzare Ancora di più Il tuo scatto Potrai decidere Su che porzione di carta Far apparire l'immagine Regolare la messa a fuoco E decidere Quanto esporre La carta fotografica Il filtro rosso Ti permetterà di vedere L'immagine Sulla carta Senza che questa Venga impressionata Usa i comandi Per muovere la carta Sul piano Regolare l'ingrandimento La messa a fuoco Quando i tre cerchi Sono allineati Significa che l'immagine È a fuoco Se ancora vedi La foto sfocata Probabilmente È commesso qualche errore Nella fase di scatto Gioco un po' Gioco un po' con le regolazioni Quando sei soddisfatto Premi space Per proseguire Ok quindi Muovi la carta E questa Dove è l'uccellino Non lo vedi È lì Ah sì Qua qua Quindi in teoria Sarebbe così VS Regola l'ingrandimento Ah ecco Cioè così la facciamo tutta Però possiamo ingrandire un po' Non ingrandirei tanto Io prenderei anche un pezzo Vai un po' più in su Meglio avere l'albero Così Corre leggermente Ah vabbè L'uccellino è sotto Dopo È giusto Fai una composizione Non è sotto Allora aspetta La metto un attimo così Così va bene Mi piace Non devi prendere sotto No no va bene Va bene così Non posso sviluppare questa foto così Ma perché? Posizione carta errata Ah ok E allora Devi ingrandirla di meno Che cavolo Eccolo qua Eh sì Per forza So che devo metterla Ma scusa Allora cosa serve A zoomare Una volta tolto il filtro rosso La carta si impressiona Con l'immagine scelta Questa fase È stata resa automatica E più rapida Di quanto avviene La realtà Per semplificare il processo Va bene Che bello Ok le accende Pum Ecco che diventa Pam Col negativo sostanzialmente Fa il negativo Probabilmente qua ci sarebbe Da aspettare Un bel po' di minuti Adesso la mette Nella In questa vasca Perché al contrario Io l'avrei messa Un po' di Comunque Ok Per un'esposizione ideale Estrae la carta Quando la lanciata Si troverà Sulla parte verde Del timer È poco Così eh Estraendo la carta Troppo presto Dello scatto Verrà compromesso Dovrai stampare Nuovamente Ok Space Space Facile Dai Sì sì Nella realtà Dopo il bagno Di sviluppo Occorre Intanto Lei rimane lì A bagnarsi Vabbè A sciacquare la carta Quindi fare un bagno Di fissaggio E sciacquare nuovamente Per semplificazione Questi passaggi Sono stati omessi Va bene Bella Mi piace Sta foto Non male Questa fotografia La macchina Funziona perfettamente A quanto pare Sì noi dovevamo Passarla di qua Di là Di là Aspetta Conservarla nel tuo album Ecco la tua foto Puoi conservarla nel tuo album Vuttarla via È possibile Stampare ogni scatto Quante volte lo si desidera Tutti gli scatti Rimarranno disponibili Per la stampa Mettile nell'album Cioè la prima Che abbiamo fatto Che è molto bene Allora Quindi è solo Allora Se noi abbiamo l'album Eccolo qua E possiamo vederla Non male questa fotografia La macchina è Iso Ah ci dà anche i parametri Di quello che abbiamo fatto Tempo di sviluppo Quasi dieci secondi Mamma mia Stato bravo però No Potevi fare dieci Solo foto storia Ah ok Questa è la foto storia Va benissimo Ora Qua possiamo farne altre Ma abbiamo fatto solo una foto Questo cosa sarà Questo registratore L'ha fatto portare il babbo Qui la settimana scorsa È vecchio Ma funziona ancora Lui ha sempre adorato Tutto ciò che è tecnologico Da notare la scritta Actung Cioè attenzione Sì Va bene Allora io direi Che possiamo uscire Dalla stanza A questo punto Usciamo dalla stanza Ora deve fare la foto Per il coso Adesso guardiamo gli obiettivi Andiamo a vedere subito Abbiamo la forbice Tra l'altro Che possiamo tirarla fuori Le forbici da sarta Di mia madre Ok Serviranno qualcosa Immagino Se per Mij forse Te lo apri diretto Sì è vero Hai ragione Hai ragione Allora Ok L'errore è fatta Qua dice Serve Un cavalletto Poi posso fare Un autoscatto Un autoscatto Serve un cavalletto Su cui poggiare la macchina Non posso tenerla in mano In cantina Ce ne sarà sicuramente uno Cioè qua Poi l'autoscatto Adesso stiamo parlando Degli anni 40 È chiaro che Non potevi farti un selfie così Questo è abbastanza chiaro Visto che dovevi regolare tutto Va bene Quindi ci dice sostanzialmente Che qua dovrebbe esserci Sì è vero Però puoi farlo Allo specchio Questo tessuto Non mi è nuovo Eppure non credo Di averlo mai visto A casa nostra Ma prima non c'era No forse sì Ah guarda là Sì Ma la sedia era già lì No Una sedia non poteva essere qua Però non ne sono sicuro Va bene Facciamo finire niente Tanto questa è la posizione ideale Per l'autoscatto Mamma mia La macchina è pronta Per un autoscatto Deve mettere il timer Presumo di sì Ma magari lo farà già lei Attiva il timer Vedi Vado? Vai Inbronciata Sorridente Ovviamente non c'è flash Sarà venuto Quanto ci scommetti Che dietro c'era qualcuno Può essere Può essere Altamente possibile No È il coso da prendere Il rullino No sopra È il rullino Ti dice che c'è una foto Mamma mia Ma tra i uso Mi sembrava una matita Fa venire colpi Quando non ci sono E mi sembrava una matita Altro non mi fa più prendere la macchina Pericoloso Comunque sì È altamente possibile Che ci sia qualcosa Dietro qua Che Io c'ho il dubbio Che queste sedie No aspetta 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 Mettiti qua Guarda di là Era possibile È possibile Che compaia qualcuno Sulla sedia Possibilissimo Anche perché le sedie qua Non c'erano No quella c'era Ah c'era? Ah c'era? Sì A me mi stanno venendo Tutti i dubbi Delle sedie Va bene Però sta cosa Mi piace tanto Però Io sono sicuro Che compare Marta È sempre un'inunzione Sviluppare una foto Non si vede nulla All'inizio Eppure qualcosa Di invisibile Viene catturata Sulla pellicola nera Una sorta di fantasma Quell'alito invisibile Torna poi a svelare La realtà Da cui è stato strappato C'è chi dice Che la fotografia Ruba l'anima O la cattura Per questo Si fotografavano i morti Porco Anche se è solo una fantasia Voglio fotografare Marta Ma vuole fotografare Marta? Ma devo farlo di nascosto O penseranno che sono pazza Attenzione Lei ha detto una cosa Molto importante Ha detto che la foto Cattura anche In qualche modo L'anima Quindi Guarda Lo vedi qua Che è tutto bianco A sinistra Sì Matteo stai calmo Non t'agitare Stai calmo Ma te lo dico Matteo si agita Ma per forza compare Dai C'è pure la musica Di tensione No Non è possibile Metti a fuoco Eh ma Sì no Volevo Sì sì volevo Un po' Magari Metterla Per cercare di vedere meglio Cosa c'era là No Mettiamo così Allora Messa fuoco Va che c'è un pochino fuori Ringgi un pochino Zoom in meno Leggermente Perché Perché magari è proprio all'angolo È proprio una roba minuscola Va bene così Mi piace È la foto normale Che abbiamo fatto praticamente Va bene No Non c'è niente Non c'è niente Tre tocchi Quattro tocchi Qualcuno che camminava Mi sembra No no Era lei che faceva Non mettermi paura C'era paura Ma è inquietantissimo Vedere una foto Che esce fuori 9 e 9 Eh Dai non c'è niente Sì No Questa sono io Nessuno riuscirebbe A distinguermi da Marta Tra l'altro Molto bella lei E neppure Marta Lo avrebbe avuto È strano Come quello che ci identifica Più profondamente Non sia visibile A nessuno Hai sentito Quello che ha detto Io sono sicuro Di chi sono Sì Quindi Secondo me Come ti dico Dove ricostrare La mente a Marta E a quello che era successo Quando improvvisamente Un pensiero Prese il controllo I ricordi di quel giorno Al lago Erano come il ricordo Di un sogno che Dopo il risveglio Si fa sempre più Si fa sempre più indefinito Che i ricordi Fossero un parto Della mente Ero stata io A fare del male A mia sorella L'avevo sempre invidiata E ora Giocavo ad essere lei C'era una logica Soffocante Decisi di andare subito A recuperare i rollini Al lago Avrebbero raccontato Una storia diversa Ne ero certa Ma in fondo Continuavo a sperare Che confermassero I miei ricordi Lei ha detto Ma certo Non lo so La porta è chiusa a chiave E se le chiavi Non sono nella serratura Allora saranno Nello studiolo del babbo Viviamo nel terrore ormai I miei non mi permetterebbero mai Di andare al lago Dopo la morte di Marta Quindi questo è il momento giusto Devo sapere Il dubbio mi sta consumando Allora Lei ha detto Nuovo capitolo Lei ha detto Che Era invidiosa Di Marta Certo Però Prima Però Prima Sì Non ha detto così Prima sembrava che erano Sì Erano Strette Invece Probabilmente non è così Va bene Comunque Sì Questa sono io Ok Vabbè Bellissima Però vedi che non c'è niente Matreus Era troppo scontato Dai Dai Su Allora Dunque Abbiamo Queste ce le segna Fatti Il giornale Non ancora Magari Continua Trovo una pompa Questo ce l'abbiamo ancora Scatta una foto a Marta Dobbiamo farlo La porta di ingresso Oppure per la porta Serve la chiave Trova la chiave Potrebbe essere Nello studiolo Del babbo Sotto la camera Da letto Dei miei genitori Ho lasciato le mie vecchie Macchine fotografiche Al lago Devo recuperarle Potrebbero contenere Informazioni interessanti Vedi la mappa Ovviamente Eccole qua Troca macca È lunga Tre Di cui una di queste È quella che avevamo visto Nell'intro Penso quella Penso quella più in basso 18 luglio Tutto è cambiato Mi sento una persona diversa Con Marta se n'è andata La parte migliore di me La gioia La voglia di vivere Di scherzare Mi trovo sola con me stessa Confusa Senza alcun desiderio Senza alcuna aspettativa Ero al lago Alle macchine fotografiche E c'era un corpo Che galleggiava Non ricordo Cosa stessi facendo prima L'ennesimo vuoto di memoria L'ennesimo Il corpo privo di vita Era di Marta Mia sorella Mamma è corsa da me E mi ha abbracciata Pensando che fossi Marta E che io Giulia Fossi morta Ho assecondato la mamma E ora è tardi Se venissero a sapere Che ho preso in giro tutti Non voglio neppure pensarci Mi sento terribilmente in colpa Faccio finta di essere Marta E di essere sorda Ho scattato la foto Fa parte di loro Ci amava così tanto Li conosciamo tutti È semplicemente impossibile L'apo È Il ragazzo di Marta Sì L'abbiamo visto Cioè l'abbiamo letto prima Curiosa sta cosa Molto curiosa Curiosa che lei dica Che non è la prima volta Che perde la memoria Sì Allora Ah Bene Allora Ma che bello Questa là Questa là Attenzione C'è una camera Dove ci fanno Nuova skin Ottenuta È buio E non posso accendere le luci È pericoloso Servirà un flash Posso cercarlo tra le cose del babbo Sotto la sua camera da letto Ok Sotto la sua camera da letto Bisogna trovare sto flash Anche Chiavi e flash Allora qua no Qua è dove c'è Marta è morta Marta è morta E dobbiamo fargli una foto Dobbiamo fargli la foto Telefono Non ho il coraggio di usare il telefono Non adesso Sì Perché se lo utilizzi Sì Però riaccendi un attimo Scusa Non è peraltro Però Allora qua Non è sicuramente lo studio Ma era già Aspetta Dove ci sono i fucili Ti ricordi? Era già aperto I bossoli dici Mi sembra di sì 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 Quello Mi ricordo bene Secondo me è il piano sopra Però dice sotto Questa Giulia Allora qua Ah vedi Ecco È questo Quindi su C'hanno la Prima era chiusa questa Aspetta Prima di andare qua Qua dirà Non posso Non ho il coraggio di usare il telefono Però Bisogna esplorare sempre tutto Perché abbiamo visto Che cambiano le cose Da un evento all'altro Si vede Quindi magari Penso che sia il cesso Io penso Sempre se magari il cesso Non fosse fuori Beh una famiglia ricca Potrebbe averlo dentro Sì 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 Anche perché Qua c'è la chiave Abbiamo dato La chiave lì Ma un ulteriore fattore Che indica Che sono ricchi Lei c'aveva Tre macchine fotografiche Che ha lasciato in giro Sì sì no no certo E una ce l'aveva lei E forse il padre Ne aveva qualcun altro Certo certo Quindi Non costa un po' No 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 Ma infatti Questo era chiaro Che c'è Poi ufficiale tedesco Sei Disegna anche Questo ufficiale Queste sigarette qua Hanno il simbolo Di un noto Di un noto Assomiglia Sia il colore Che ha un po' la forma Leggermente Di un noto distributore Di cui non farò il nome Di Bevande di caffè Andiamo avanti Questo è il flash Non l'ho mai visto Ecco il flash Ora posso fotografare Marta Anche al buio Non mi piace Non mi piace Queste sono le lampadine Perché A ogni flashata La lampadina Si brucia Flash Sì all'inizio Il flash era così Penso anche qua Roba del babbo Mappe di guerra Ho sentito dire Che tutto si giocherà Su questa nuova linea Difensiva Sì qua abbiamo La Romagna Qua Emilia Romagna Dove possiamo vedere Florence Firenze Poi abbiamo Empoli Vedete Poi sopra si vede Imola Paenza Ravenna Quindi Tutta la parte lì Sicuramente qualcuno Luca c'è anche Vedete Pisa Poi sono divise Sicuramente questa C'è San Marino Si vede Rimini Riccione Cattolica Cesenatico Ravenna Qua se c'è qualcuno Che segue il canale Eh cavolo Io abito lì Abito lì Comunque sono mappe Proprio della zona Cioè Secondo me C'è il lago di Comacchio Secondo me c'è Roba La linea rossa Anche il simbolo Anche il simbolo in alto Eh non lo so Non c'è la leggenda Sinceramente Però può essere Questa è la chiave Vai Perfetto Se provi a segnare di sopra Magari stanno dormendo Provo Piano Stanno dormendo Sì Vabbè dai Nel senso Che dettaglio Ah sta camminando Ora il fucile Eh beh sì Lui essendo Alla fine in guerra Ha paura anche dei partigiani Credo Si ho capito Però hanno lasciato Non posso prendere la B Quindi non posso ne far foto Ne niente Ha lasciato la finestra Al piano di sotto aperta Sì ma è piccolina Ed è già Questa Questa qua di sotto Che ti porta fuori Ma va Ma cosa stai dicendo Un terrazzo Eh Eh E non posso salire Da un terrazzo Ma sarà alto Guarda quanto è alto Ma una scala ci arrivi Sì ma sarà anche Tra virgolette Presumo che ci sia Le guardie intorno Qualcosa del genere Ma lei non potrebbe uscire Allora Lo capiremo Matreus Lo capiremo Matreus Lo capiremo Una cosa alla volta Una cosa alla volta Una cosa alla volta Adesso accendo il cammino Non posso accendere il cammino Sai cosa facciamo Non è Eh Utilizziamo Andiamo a fare la foto a Marta E la sviluppiamo Sì adesso Stai calmo Prima Stai calmo Fammi dire Allora È troppo buio Ok Quindi tu vuoi fare Questo Sì E poi abbiamo questo Quindi abbiamo già due Obiettivi E bisogna comunque Trovare la pompa Che non abbiamo ancora trovato Va bene Tanto adesso lo toglie Perché guarda No Tu sei morto Ok E adesso andiamo a fare la foto Lascia aperto Si sa mai No No Al contrario Dovresti lasciar No perché Io c'ho più paura Di questa Che succede qualcosa Non so perché Questa è morta Questa è morta Ma Cucu Usa la macchina Usa la macchina Osserva E rimetti in borsa Sì ma Il flash Penso che lo mette Aspetta fammi vedere Che lei ce l'ha Qua No Quella è la luce Il flash l'ha già montato A me sembra che l'ha smontato Prima Va bene Comunque Usa la macchina fotografica Sì ma Da qui Così No non da davanti Un pochino di lato Così A parte che ti esce Vedi che cambia colore Ok così 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 Non si vede niente Piccolo Piccolo problema Che non si vede niente Quindi anche la messa a fuoco Soggetto inquadrato Ok E andiamo con quello Cioè Troppo scuro però Troppo fuoco E allora Fuori fuoco Aspetta Chiudi No Eh sì l'ho schiacciato So che l'aveva tenuto premuto Premi Q Eh si apre ancora Perché effettivamente Non ce l'ha su adesso Prima l'ha montato Ce l'aveva di fianco L'ha smontato La maledetta L'ha smontato Ma comunque il flash Non è che ti fa la luce Come il telefono così No certo Ok Cioè L'ha smontato La maledetta L'ha smontato Che cavolo è sto coso Che avevamo preso Quello è l'accendino Ah è l'accendino Giusto Sì Beh insomma Così no Troppo scuro Troppo scuro Allora alza L'esposizione Sì non troppo Troppo scuro Così Risposto Correttamente Ok Fatto Sarebbe bello Poterti avere sempre accanto Con una semplice fotografia Andiamo giù a svilupparla Presumo di sì Cioè Io immagino che si debba fare Adesso andiamo a vedere Obiettivi Obiettivi Sviluppa la foto Ho paura Ma giustamente Ho paura Perché non rimette questo Tutte le volte Devo Metti qua Una paura Tu non hai idea Sì Ma Ma ci picchia la testa Guarda Eh vabbè Ha tolto tutto Ma l'avrò tolto lei Cavalletto Un cavalletto è necessario Per fare foto Con un lungo tempo di esposizione Si sta Se lo porta dietro Perché serve fuori questo Per fare le foto fuori serve No ho sbagliato Scusa Ho sbagliato Non c'è tra dietro Volevo prendere il L'accendino Scusate Non te lo fa mettere Vedi che è scuro Capito Non me lo fa mettere A mo' si Ah forse perché Addosso ad un coso E cos'ha Paura che va a fuoco Che No magari per ragioni di Di sicurezza Di gameplay Guarda sta succedendo qualcosa qua Mi sbaglierò Ma Vabbè Andiamo a Andiamo a sviluppare A casa da solo Cioè No 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 Si sta che le Vabbè Stanno dormendo Con russa come pochi Scusami eh Cos'è Ah è per buttare via i rullini Forse questo Prova Penso Sono lenti Filtro blu Filtro blu Ah Filtro arancione Quando c'è nebbia e foschia Migliora l'immagine Contrastandola un po' Con questo filtro Posso scattare da molto vicino Chissà se potevamo Prenderli prima Una lente E un rullino a infrarossi Possono fotografare Quello che l'occhio Non può vedere Ok questo sicuramente Mi viene il dubbio Solo sul filtro Mi serve per scattare Una foto a infrarossi Vedete cosa serve La foto ad infrarossi Che tavolo ti serve Ma fuori È Senza il flash Eh sì Cioè Indispensabile Stiamo parlando Di una tecnologia Di 60 anni fa Eh No 60 anni 80 anni fa È partita una musica Non c'è nessuna musica Io non sento niente Come no No Leggera Ah leggera Leggera Sì Ok Questa Ok Allora Ring Ingrandimento Ok 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 E' proprio Precisa vai Una fotografia E' insieme Presente e passato Come un corpo morto Non so bene Cosa spero di trovare Forse è stupido Pensare di poter Catturare l'anima Di chi è morto Vai E invece Abbiamo guardato Le foto sopra Forse è stupido Dice Dice Cosa vediamo Stavolta Secondo me Niente Il suo volto Non può più dirmi Se quello che è accaduto È stata colpa mia Dovevo immaginarlo E ora Non mi resta Che correre A prendere i rullini Al lago Dimmi Matrelius Mi sono accorto Di una cosa Dimmi Lei c'ha dei segni In testa Sì Non può essere Stata Sì Infatti Non si sa Cosa sia successo Abbiamo fatto Delle foto Belle Devo dire Va bene Allora Matrelius Per questa puntata Devo dire Di fottuta Notte Horror È tutto Andremo avanti da qua Abbiamo fatto Tutto questo C'è ancora Questa del giornale Appesa Trova una pompa E soprattutto Qua bisogna Bisogna andare Raggiungi il lago Cioè dobbiamo raggiungere qua Lo faremo nella prossima puntata Perché per questa puntata è tutto Amici Ci vediamo al prossimo video Andremo avanti da qua Mi raccomando Provate questa serie Con un bel mi piace Commenti o una condivisione Mi raccomando Commentate Dite la vostra Iscrivetevi al canale Se siete già iscritti E attivate la campanella Pagina di Instagram Facebook Gruppo Telegram Tutti i link sono in descrizione Compensate la playlist Di questa fantastica serie Damoro Ci vediamo al prossimo Fututo video Ciao a tutti Ciao